Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia dell'Olanda per i mondiali in Qatar che si stanno disputando. In versione player la maglia indossata dai calciatori. La maglia Nike Olanda 2022 presenta una diversa tonalità di arancione rispetto alle precedenti. La maglia di casa Nike è laser orange che ha un colore molto giallo-arancio. Per la grafica viene utilizzata una seconda tonalità di arancione più scura e più tradizionale. La caratteristica di spicco è una grafica all over che si ispira alla pelliccia di un leone. Questo è ovviamente ispirato dal leone presente sul crest. Il leone è l'animale nazionale e reale dei Paesi Bassi ed è sul crest dal 1907 quando vinsero 3-1 sul Belgio. Secondo Nike il design Dancy Squirrel non solo evoca la criniera del leone ma rappresenta anche la fluidità del sistema tattico Total Football. A mio avviso questa maglia è molto bella. Nella sua semplicità ne prende comunque 4 stelle. Questo colore che non so se nel video rende come dovrebbe è veramente stupendo con queste diverse tonalità di arancione stupende. Qui in alto vedete il costo che per una maglia fatta così bene con dei tempi di spedizione così veloci. Questa è arrivata in 24 giorni. È veramente imbattibile. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio la parte finale in cui vedrete la vestibilità. Prima di farlo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.